buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi giovedì 16 febbraio 2023 e abbiamo un ospite in studio che ci aiuterà un po' a commentare così a verificare un po' le notizie che sono pubblicate dai giornali oggi il resto del carlino e il corriere dei attico do il benvenuto a tommaso mazzanti buongiorno massimo buongiorno ciao tommaso tommaso è il capogruppo consigliare del movimento 5 stelle in consiglio comunale a fano allora vediamo subito le notizie che ci dà l'almanacco del giorno per poi vedere quelle che pubblicano i giornali questa mattina e vediamo il santo il santo è una santa si tratta di santa giuliana di nicomedia in bitinia visse nel terzo secolo andata in sposa al prefetto della sua città che si chiamava elogio giovanissima giovanissima però il prefetto scoprì che lei era cristiana e quindi cosa fece eligio agli ordini degli imperatori la fece torturare affinché ritrattasse la sua fede ma giuliana non ne volle sapere e quindi fu mandata a morte fu decapitata e morì sotto la persecuzione di diocleziano come tanti tanti altri martiri e questa è santa giuliana quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano giuliano e giuliana ed ora passiamo alle previsioni del tempo e vediamo che il tempo ancora diciamo ancora si mantiene bello su tutta la regione cieli in prevalenza poco nuvolosi li vediamo qui nella grafica per l'intera giornata salvo la presenza di qualche annuvolamento pomeridiano i venti saranno moderati il mare è quasi calmo non è più mosso come nei giorni scorsi e le temperature si così vanno tra i 4 gradi che è la minima e i 9 gradi che è la massima siamo ancora in inverno e allora ci ho detto vediamo le notizie sui giornali a partire oggi dal Corriere Adriatico sulla pagina di apertura di Fano ecco qua il titolo di apertura dedicato all'area ex Agip un intervento che è lì in ballo da tanti tanti anni vediamo il titolo area ex Agip qualcosa si muove via libera al progetto di fattibilità Tommaso dobbiamo dire finalmente? dobbiamo dire certo finalmente un tema di cui ci siamo occupati tante volte ormai da molto tempo mi ricordo l'anno scorso verso i primi mesi del 2022 da ultimo avevamo presentato un'interrogazione in consiglio proprio per capire anche quali fossero le intenzioni dell'amministrazione perché sapevamo da indiscrezioni che c'erano diversi progetti in ballo però non erano mai stati presentati alla città quindi munito di carta e penna sono andato in comune ho preso qualche informazione al riguardo però apprendiamo ora che si è andati avanti senza rispettare gli impegni che si era presa questa giunta di condividere comunque questo progetto e di fare in modo che ci potesse essere la partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interesse della zona quindi speriamo che perlomeno a posteriori come troppo spesso accade si possa recuperare un margine di discussione al riguardo anche perché so che la città non prende benissimo la destinazione che è stata decisa per quest'area che è sicuramente strategica dal punto di vista urbanistico Ecco il piano che è stato approvato in giunta è il piano di fattibilità tecnico-economica riguarda quattro interventi il primo riguarda la riqualificazione dell'area ex-agip vera e propria poi abbiamo il secondo la riorganizzazione del parcheggio di via Malagodi un parcheggio importante anche per tutti i genitori che vanno a prendere i bambini alle scuole e corridoni e poi abbiamo il terzo il terzo che riguarda la realizzazione dei giardini dei giardini Saint-Huen-Lomont che sono veramente in degrado e poi il quarto riguarda il ridimensionamento della grande rotatoria dell'ex-agip in cui confluiscono via Montegrappa e via Ale Gramsci insomma un punto strategico del traffico cittadino veramente importante che dovrà essere ridisegnato quindi quattro interventi in un unico progetto e tra breve l'assessore Brunori che si sta occupando della questione ha promesso di farci vedere il rendering così ci rendiamo conto del nuovo aspetto che avrà questa area prospicente la parte posteriore del corridone e poi passiamo a Metauriglia Metauriglia una frazione che ha avuto molti molti problemi questi ultimi tempi problemi del traffico problemi di pista ciclabile ed ora anche problemi di segnali stradali di velti abbandonati a terra li evidenzia Lucia Tarsi che è una consigliera comunale di Fratelli d'Italia molteplici situazioni di pericolo e disagio Fratelli d'Italia da voce ai residenti in modo particolare è in località Sant'Egidio che si evidenziano questi problemi Sant'Egidio una frazione popolata da una quarantina di famiglie le cui abitazioni si affacciano prevalentemente sulla strada comunale di Mezzo Tommaso, la strada comunale di Mezzo dovrebbe essere un'arteria alternativa alla statale adriatica sud e da voi privilegiata, è vero? Sì, la strada di Mezzo evoca appunto quello che è sempre stato il progetto che secondo noi avrebbe meritato la destinazione dei 20 milioni per la viabilità attribuiti al comune di Fano risorse che l'amministrazione comunale ha deciso secondo noi sbagliando di destinare invece alla variante di Gimarra che invece è un'opera molto più controversa e anche difficile dal punto di vista progettuale e amministrativo da portare avanti come peraltro abbiamo visto quindi sì, non sappiamo a questo punto quando l'adeguamento della strada di Mezzo o altri percorsi alternativi possano mai rappresentare in futuro un'alternativa efficace alla statale per liberare Metauriglia, Torrette, Ponte e Sasso dal traffico visto che di risorse per ora appunto non ce ne sono nonostante avessimo chiesto appunto di destinarvi quelle che già c'erano Giriamo la pagina e parliamo di un altro problema annoso, ormai sono tre anni che l'ex Carducci è stato dichiarato inagibile però c'è una novità in merito a questa questione perché la regione ha messo a disposizione 6 milioni per rifare il fabbricato Aule io non conoscevo questo fabbricato Aule l'ho appreso dai giornali in questo periodo parlavo sempre dell'ex Carducci ma sembra che oltre ai finanziamenti che sono fermi alla Corte dei Conti per quanto riguarda i 5 milioni che lo Stato darà alla provincia per realizzare il nuovo Carducci ci sono altri 6 milioni che la regione Marche dà per rifare questo nuovo edificio Aule la sede alternativa al Nolfi ipotesi Palazzo Petrucci si ragiona anche sulla possibilità di anticipare la riedificazione dell'ex Carducci si parla sempre si stimola sempre l'amministrazione comunale anche la si colpevolizza per questa situazione di stallo come vedi la situazione è la provincia che deve intervenire è lo Stato che deve intervenire è il Comune c'è un po' un conflitto di responsabilità Tommaso è un tema su cui intervengo molto volentieri perché sono molto legato a questa scuola perché ho frequentato il liceo classico quindi ho passato 5 anni in quelle aule beh direi che l'amministrazione comunale in questo caso può solo avere un ruolo di stimolo e di pungolo nei confronti soprattutto della provincia che è competente appunto nella gestione del patrimonio scolastico delle scuole superiori ma anche dello Stato in primis del Ministero dell'Istruzione io sono testimone diretto dell'impegno che i nostri ex parlamentari in particolare l'onorevole Roberto Rossini hanno messo in questa vicenda stanziando 20 milioni affinché potesse scorrere la graduatoria del bando Sisma 120 quindi si potesse finanziare in gran parte la ricostruzione la demolizione e ricostruzione dell'ex plesso Carducci purtroppo come dicevi tu giustamente questi soldi inspiegabilmente da anni sono fermi al Ministero dell'Istruzione io stesso come consigliere comunale ho mandato diverse PEC alle quali non ho mai avuto risposta questo è un comportamento che ritengo anche abbastanza grave e ci auguriamo che l'attesa ecco stia per finire qualche giorno fa abbiamo letto anche qualche notizia positiva in questo senso dai parlamentari attualmente in carica quindi ovviamente la nostra operazione di fiato sul collo nei confronti degli enti competenti non finisce e va avanti perché se lo merita questa comunità scolastica che ormai da troppi anni è in una situazione di grande difficoltà e ha vissuto anche il Covid appunto in una situazione di grande criticità dal punto di vista degli spazi certo disagi per gli studenti disagi per gli insegnanti e disagi anche per le famiglie e sembra che leggendo i giornali questa mattina troviamo l'elenco delle incompiute perché a fondo pagina rispetto all'articolo che riguarda Alex Carducci troviamo un altro incompiuto che è quella del parco dell'aeroporto parco urbano eccolo qua il titolo solo immobilità e degrado la presidente del comitato Bartolaggi che ha compiuto una storica battaglia per la realizzazione di quest'opera rileva come sia rischio addirittura l'intero progetto i lavori sono ripresi al parco urbano al momento si è realizzato soltanto una piccola area gioco con la montagnola relativa così nei pressi di via della Colonna insomma e tutto il resto è ancora è da fare le lungaggini le lungaggini i rapporti con le ditte le ditte che magari si fermano perché i prezzi s'alzano le ditte si fermano perché c'è il covid insomma una storia l'altra ci sono lungaggini ricordiamo piazzale a Mendola ricordiamo la passeggiata romantica ricordiamo il parcheggio del via di risorgimento insomma ditte che veramente non fanno il loro lavoro a questo punto è molto difficile governare si è difficile poi per carità è vero che ci sono delle situazioni oggettive di difficoltà l'aumento dei prezzi a volte anche una litigiosità che contraddistingue il nostro paese per cui spesso molte opere pubbliche vengono bloccate vediamo il Sant'Arcangelo esatto il Sant'Arcangelo dai ricorsi al TAR dai ricorsi amministrativi d'altra parte dobbiamo anche dirci che il settore del comune di Fano dei lavori pubblici è in difficoltà perché io sono sicuro e convinto che i nostri dipendenti stiano dando il massimo però appunto la struttura amministrativa spesso viene disorientata da diversi input politici che sono anche contraddittori fino a poco fa avevamo almeno tre assessori ai lavori pubblici che spesso scherzando ho detto che magari era un record a livello nazionale adesso ce ne sono due ce n'è uno di meno quindi magari la situazione si è semplificata però ecco anche riguardo al parco urbano è un tema di cui sento parlare da quando sono nato e ancora insomma stiamo parlando veramente di stralci molto importanti che devono partire le gare vengono aggiudicate però poi magari gli operai al lavoro non si vedono purtroppo e su questo abbiamo acceso i riflettori anche noi qualche qualche settimana fa ed è giusto insomma che chi se ne è occupato storicamente torni a far sentire la propria voce vediamo ora gli articoli di apertura del resto del Carlino per quanto riguarda la pagina di Fano e troviamo un episodio è un allarme non è un episodio è un allarme che viene lanciato dal responsabile della casa accante di Montevecchio in via Palazzi a Fano una casa che si occupa delle persone fragili dei bambini che devono essere estratti dalle loro famiglie perché hanno dei problemi le famiglie mamme con bambini mamme sole insomma una casa di assistenza mamme anziane maltrattate dai figli aumentano le richieste di aiuto lo dice Giovanni Di Bari che è presidente del Cante di Montevecchio che ha in gestione ormai diverse strutture è un fenomeno questo che ha avuto una certa evoluzione una volta le liti in famiglie tra madri e tra genitori e figli venivano così alla luce per questioni di droga ora non è più così ci sono anche altre vicende e gli episodi di maltrattamenti a livello familiare ma non di genitori nei confronti di figli dei figli nei confronti dei genitori è che la cosa è molto molto più grave il problema della violenza in famiglia Tommaso è un problema che persiste e c'è nella nostra città anche se forse qualcuno fa orecchi da mercante ti sembra? Sì non vorrei fare allarmismo facile diciamo però questa città la nostra città è in sofferenza quando si fa il consigliere comunale anche d'opposizione spesso si viene a contatto anche con realtà che magari quotidianamente ignoriamo perché non le tocchiamo con mano però ecco c'è un tema nella nostra città il tema della violenza anche e soprattutto di genere nei confronti delle donne annualmente almeno annualmente in consiglio abbiamo degli appuntamenti ovviamente in coincidenza con la giornata nazionale internazionale contro la violenza sulle donne in cui poi le forze dell'ordine appunto ci rendi contano quella che è la situazione non è una situazione erosia quindi dobbiamo tenere le antenne alzate a livello comunale sicuramente fare prevenzione e fare sicurezza anche dal punto di vista sociale dei servizi sociali anche perché la situazione purtroppo dopo il covid è andata peggiorando senza parlare del lockdown in cui queste situazioni purtroppo sono esplose noi siamo un po' scordarelli ma non dimentichiamo quanto è accaduto alla povera Anastasia di cui i giornali hanno parlato tantissimo e poi è caduto il silenzio ma ormai questa è una pagina che è stata chiusa il piccolo Adam vive con la nonna in Ucraina in una località che per fortuna al momento non è raggiunta dalla guerra e speriamo che la sua vita possa evolversi possa così essere ugualmente serena ed ora parliamo da un argomento un pochino più leggero perché insomma ci ha fatto vedere un po' il patema tutte queste notizie parliamo di carnevale sì perché oggi è giovedì grasso è giovedì grasso insomma e oggi si fringe si fa festa e c'è una bella festa per i bambini al carnevale di Fano in piazza 20 settembre nel pomeriggio di oggi vediamo il titolo che richiama questo avvenimento il resto del Carlino un nuovo sindaco è un francobollo addirittura il grosso grasso giovedì del carnevale la filatelia celebra la manifestazione cittadina con un annullo speciale cerimonia al ministero oggi il presidente dell'ente carnevalesca insomma anche le autorità andranno a Roma perché le poste presentano un francobollo dedicato al carnevale di Fano e oggi in piazza il maestro della musica arabita Daniele Gaudenzi riceverà le chiavi della città e diventerà il sindaco del carnevale sindaco che rimarrà in carica fino al martedì grasso fino al martedì prossimo e potrà emettere tutte le ordinanze che vuole tanto non avranno al conseguito comunque questo è un po' una tradizione del carnevale di Fano il carnevale di quest'anno Tommaso un giudizio ti è piaciuto si può fare di meglio che dici? è stata una bella ripartenza innanzitutto dopo anni di stop forzati di modi alternativi di festeggiare il carnevale io credo che l'ente carnevalesca per le situazioni in cui si trova con i finanziamenti che ha con la forma giuridica che ha con la struttura che ha ogni anno riesca a fare un miracolo chiaro che qualsiasi cosa è migliorabile qualsiasi aspetto può essere ridiscusso però io credo che l'amministrazione comunale nei confronti della propria manifestazione più antica e la propria manifestazione principale debba anche manifestare un supporto che non solo si traduca in maggiore sostegno finanziario ma anche in una riforma proprio dell'organizzazione del carnevale che possa dare appunto alla carnevalesca quella solidità e quella professionalità anche che merita e che porterebbe il nostro carnevale che se lo merita al pari dei tanti altri carnevali del nostro paese tutti gli altri carnevali principali d'Italia sono gestiti da fondazioni ecco questo è un tema che anche a Fano sicuramente può essere ponderato e magari applicato se ce n'è la possibilità insomma credo che il comune debba in qualche modo farsi garante senza intaccare e entrare minimamente interferire nella libertà artistica dei carristi che deve essere assoluta e anzi va stimolata però deve anche fare in modo di tutelare e direi valorizzare al massimo questa nostra manifestazione storica torniamo un attimo all'aeroporto abbiamo parlato del progetto del parco ed ora parliamo invece di un progetto che sembra avere una marcia in più rispetto alla realizzazione del parco nella sua interezza ed è quello della pista di un track una iniziativa estemporanea è nata all'improvviso e sembra procedere a sprombattuto però gli ambientalisti non sono contenti una pista troppo invasiva per quanto riguarda l'assetto ambientale del parco urbano e quindi non la vogliono 5 stelle che fanno la vogliono o non la vogliono ma noi non siamo contrari a prescindere rispetto a quest'opera però registriamo innanzitutto che come dicevi giustamente si tratta di qualcosa di estemporaneo perché non era previsto nel piano particolareggiato del parco urbano approvato ormai diversi anni fa quindi si procede sempre come è tipico purtroppo di questa amministrazione in maniera puntuale e anche scollegata da un contesto complessivo di riferimento e poi si registriamo anche noi che ci sia una doppia velocità nei lavori perché questo pump track che appunto non era previsto va avanti in maniera molto spedita e mentre il cuore del parco urbano ormai da decenni subisce dei ritardi dei rallentamenti e delle incognite questo sicuramente è da rilevare e bisogna sicuramente che la giunta faccia in modo di portare avanti tutte queste opere in maniera simultanea diciamo perché altrimenti si viene a volte il dubbio che non si creda davvero nel parco urbano ed ora parliamo di due iniziative che si svolgono domani e nei prossimi giorni le vediamo qua sul resto velcarlino Alex Zanotelli ospite d'onore alla scuola di pace il missionario comboniano sarà a Fano il 4 marzo prossimo e si parla di guerra e di alternative ovviamente la scuola di pace comunque un personaggio veramente pregevole quello che ospiterà a Fano quell'altra iniziativa invece si svolge domani è un'iniziativa della fondazione Carifano riprende la serie di incontri sul clima sulla terra e il clima domani ci sarà alle ore 16 nella sala di rappresentanza sempre della fondazione il professor Fabio Salbitano che è docente di assestamento forestale e selvicultura all'università di Firenze il professore Salbitano non è nuovo per quanto riguarda la nostra città già a suo tempo aveva così promosso uno studio sulla situazione ambientale anche sul parco dell'aeroporto mi ricordo che fu presentata in consiglio comunale però è un progetto che è rimasto nel cassetto insomma però sono due pregevoli iniziative abbiamo dei personaggi veramente importanti che vengono a Fano e sono iniziative queste da tenere in considerazione e vediamo spesso che le aule le sale sono piene di gente che apprezza appunto le iniziative stesse giriamo la pagina e parliamo invece di un'altra iniziativa interessante che può salvare diverse situazioni al momento critiche parliamo dei crediti della super bonus seri ci pensa potremmo acquistarne 4 milioni ecco il titolo che appare sul giornale il sindaco ha detto opportunità interessante della quale abbiamo discusso in giunta stiamo valutando per il primo cittadino il rischio potrebbe essere trovarsi con titoli non più riconosciuti dallo Stato speriamo che questo non accada comunque seguendo la scia del comune di Pesaro che questa iniziativa l'ha già adottata anche il comune di Fano sta valutando di acquistare dalle banche locale i crediti d'imposta del super bonus 110% un'iniziativa che è stata caldeggiata anche da Marta Ruggeri in consiglio regionale Tommaso sì apprendo stamattina dell'interessamento del sindaco Seri questo ovviamente ci fa piacere ci fa piacere che il sindaco aderisca a una campagna che stiamo promuovendo a livello nazionale per il super bonus regionale come ricordavi giustamente Marta Ruggeri consigliera regionale nelle Marche ha presentato una mozione una proposta di legge proprio per sbloccare la circolazione dei crediti d'imposta per i bonus edilizzi che purtroppo hanno vissuto un rallentamento e un blocco a causa di provvedimenti secondo noi assolutamente ingiusti che sono stati assunti dal governo Draghi in poi e noi riteniamo appunto che gli enti pubblici a tutti i livelli anche a livello territoriale quindi regione provincia a questo punto anche comune possano farsi carico a costo zero praticamente a parte qualche onere nel primo anno di attivazione di questo sistema perché ricordiamo che il super bonus ha dato un grande contributo al PIL del nostro paese negli ultimi anni ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro e se non si sbloccasse il sistema della circolazione dei crediti dobbiamo tenere conto che ci sono decine di migliaia di imprese centinaia di migliaia di lavoratori che potrebbero tornare a casa e questo ovviamente dobbiamo scongiurarlo in ogni modo benissimo questa dunque è un'iniziativa che deve essere ben costruita e poi realizzata perché non può restare a livello di progetti approfitto Massimo per aggiungere che sabato domani quindi dalle 10 alle 12 saremo con dei banchetti informativi dopo domani dopo domani perdonami sì saremo con dei banchetti informativi per il corso vicino al Pino Bar e parleremo appunto di super bonus regionale e anche di comunità energetiche quindi tutti i cittadini che fossero interessati possono ci trovano al banchetto e avremo del materiale informativo da distribuire continuiamo la lettura dei giornali to dico troviamo un altro in compiuta è il teatro romano teatro romano un altro anno off limits l'area archeologica non sarà visitabile nonostante gli impegni nonostante le promesse questa estate il punto sullo stato dell'arte con l'assessore alla cultura Cora Fattori ebbene i resti del teatro romano non saranno aperti al pubblico neppure quest'estate così come si dovrà attendere il 2024 per l'ampliamento della capienza e il collegamento delle due piazze del Bastione San Gallo questo è un altro intervento che è in ballo non si procederà con un nuovo bando per la gestione della struttura di via Mura San Gallo ma si prolungherà l'incarico per un anno a Work in Progress che è l'associazione di ragazzi che cercano di animare il Bastione e realizzare diverse iniziative ma torniamo al teatro romano il teatro romano e sappiamo che il comune ha acquistato lo stabile dell'ex Filanda questo poi ha trovato dei problemi di sismicità diciamo così non è molto stabile quindi deve essere rinforzato insomma ci sono problemi ci sono lungaggini e questo bene prezioso che abbiamo la nostra città ancora come diversi altri dobbiamo dire per quanto riguarda l'epoca romana non viene valorizzato a dovere beh bizzarro insomma che dopo l'acquisto deliberato dal consiglio comunale dell'ex Filanda alla fine del 2019 noi per oltre tre anni non abbiamo più sentito parlare di teatro romano e credo che sia significativo a riguardo che il consigliere comunale che ha la delega appunto anche al teatro romano che il consigliere Stefano Marchegiani ex assessore alla cultura sia stato costretto a presentare un'interrogazione a riguardo questo significa che probabilmente all'interno dell'amministrazione ci siano delle visioni diverse a questo punto a riguardo oppure ci sono dei rallentamenti che sono ritenuti non tollerabili anche da parte della stessa maggioranza o perlomeno di una sua parte viene richiamato solo con un trafiletto ma in realtà è anche questo un argomento molto molto importante San Pietro in valle in attesa dell'incarico alla Politecnica per capire le ragioni delle infiltrazioni la chiesa rimane chiusa ancora si è in attesa di capire perché c'è l'umidità all'interno di quella chiesa ci sono infiltrazioni d'acqua non si sa se provengono dal tetto dalle pareti dal pavimento insomma è un problema perché lì si distaccano ogni tanto degli stucchi qualche cosa si ammalora questo bene prezioso altro bene prezioso una delle chiese più belle barocche di tutte le manche purtroppo non è visitabile ed è brutto vedere Tommaso un turista che arriva a Fano con la guida in mano si pone davanti la chiesa di San Pietro in valle e la trova chiusa così come va al teatro romano la trova chiusa va agli scavi di Vitruvio li trova sbarrati va alla Memo per vedere la sala ipogea e non la può visitare insomma è tutto un problema di accessibilità ai nostri beni preziosi aggiungo l'ex chiesa di San Francesco perché quella almeno la si vede la si vede da fuori spesso mi chiedono i turisti se è visitabile purtroppo gli devo rispondere di no quindi è un problema assolutamente che c'è veniamo alla pagina di Urbino Ateneo rivoluzione nelle pagelline del personale il direttore generale Alessandro Perfetto abbiamo introdotto un sistema integrato basato sul modello delle competenze e l'Ateneo si aggiorna vediamo anche il problema della viabilità provinciale non solo fanese alto là della provincia strade mulattiere nelle terre roveresche il tour del sindaco Sebastianelli tra crateri e frane ci sono arterie che non vedono il catrame da dieci anni questa volta è proprio il sindaco che si mobilita e chiede un sostegno per così rendere decenti le strade e anche le strade fanesi dobbiamo dire come tutte le strade provinciali sono tre nella priorità dei cittadini per gli interventi della pubblica amministrazione se l'amministrazione comunale presenta 50 milioni di progetti e si dice al cittadino cosa vuole per primo lui dice coprite le buche nelle strade è quella la cosa più sentita sì io penso che se qualche politico trovasse un modo per garantire la manutenzione delle strade in maniera frequente vincerebbe a mani basse le elezioni nella nostra città perché veramente credo che sia il problema forse più sentito da parte della cittadinanza Tommaso siamo arrivati alla fine ringrazio per la tua presenza noi chiudiamo i giornali vi ringrazio per l'ascolto e noi ci risentiamo domani alle 7 buona giornata grazie a tutti